un cazzo ancora è più ora arriva il Natale la luta fatte per decidere c'è Natale che diria quattro vittorie l'ustruzzo di Diokovic con Chelsea e Napoli segna segna ma non è italiano per dire loro romano non è italiano, non è napolitano è romano non è italiano attacco il palico perdi Roma autore che non è una volta di riuscire a giungere il bando un cazzo faccio un gol regalo, 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 regalo cominciamo ok 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 come dobbiamo metterci come dobbiamo metterci hai già adaci? no, no, no ah, vabbè oh ma è meglio è stato meglio così eh sì sì, una donna l'aveva trovata con i distini infatti una donna ah non me la siete visti insieme? no possiamo beccarli dopo ma lui l'aveva comprato dopo? sì tutti avanti tutti avanti grande Mario fine sì 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 3 3 3 3 3 Ma appena cacciato il ragazzo... Brava! Inizambio! Mirko! Tieni Mirko! Un po' Non è cominciato! C'erano male due copesiati, ecco qua! 36 Buona Viva! Oh no, andò! Due secondi che fai lì tanto Ma finale! Ehi! Ma hai ci metto! Brava! Gola, la finca! Dai ragazzi, dai! Ehi, destra! Ehi, destra! Ma ci stai lasciando lì! Ma ci stai lasciando me! Ottimo! Ottimo! Non dò, ci posso staccare! Grazie.